Mal tempo, resta l'allerta meteo fino a mezzanotte. Benzinai, via alla due giorni di sciopero. Pesaro 2024, summit allo sperimentale verso la capitale. Confesercenti, Ippaso, nuovo responsabile sindacale. Il 5 marzo il Vescovo Salvucci si insedia ad Urbino. Buona serata a tutti voi amiche e amici di Rossini, TV. Ben ritrovati a Rossini News, il nostro telegiornale delle canale 80 che in questa edizione di martedì 24 di gennaio apriamo occupandoci della situazione meteorologica che nonostante le precipitazioni ben più ridotte di oggi rispetto alla giornata di ieri vede comunque mantenere in vigore l'allerta gialla fino alla mezzanotte di questa sera. Intanto oggi a Pesaro è stata una giornata di sopralluoghi dopo i disagi registrati ieri. Nonostante le precipitazioni ben più ridotte rispetto a ieri, resta in vigore l'allerta gialla fino a mezzanotte di questa sera. Una situazione in cui oltre alle centinaia di interventi dei vigili del fuoco tutt'ora in corso sono intervenuti anche i carabinieri per alcune operazioni di salvataggio come nel territorio di San Costanzo dove con corda e vericello è stata recuperata l'auto di un'ottantenne finita fuoristrada o è stata servita assistenza a famiglie isolate in località rurali. Allerta ma il tempo che dopo i sopralluoghi effettuati tra ieri e oggi sta visivamente migliorando con i casi di maggiore criticità che sono monitorati incessantemente. Pioggia che ieri ha colpito in particolar modo strada dei pioppi a Pesaro registrando ingenti danni e causando l'isolamento di una famiglia con vie d'accesso praticamente inagibili ed auto bloccate in un lago profondo circa mezzo metro. Famiglia che però questa mattina ha goduto della sensibilità della Hollus Gulliver e dell'assessore Belloni che hanno consegnato del materiale di fronte alle difficoltà riscontrate donando una lavatrice della legna ma anche medicinali e beni sanitari. Ma il tempo che si è abbattuto con grande intensità anche vicino al casello autostradale registrando gravi criticità forse a causa del cattivo funzionamento delle pompe per il sollevamento delle acque della stessa autostrada. Situazione che però anche in strada fornace e vecchia sta lentamente tornando alla normalità. Abbiamo fatto un sopralluogo dopo il maltempo dei giorni scorsi, soprattutto i danni di ieri mattina. Devo dire che la situazione sta tornando alla normalità. Alcune criticità le abbiamo registrate ancora nella zona dell'autostrada forse dovute al cattivo funzionamento delle pompe di sollevamento delle autostrade. Il nostro centro operativo e volontari di protezione civile continuano nei loro interventi. Alcune strade sono già state aperte, lavate, quindi sono perfettamente fruibili. Adesso siamo qui nella zona sottomonte della ciclabile dove la mareggiata in qualche modo ha causato danni anche, pensiamo, non di poco conto ai gestori degli stabilimenti balneari. La nostra ciclabile sta reggendo e speriamo che il tempo migliori da qui alle prossime ore. Vi segnaliamo che dopo la chiusura del casello autostradale di Pesaro in direzione nord avvenuta ieri a causa di un allagamento, la stazione di Pesaro autostradale verrà anche chiusa dalle 22 di giovedì 26 alle ore 6 di venerdì 27 gennaio in entrambe le direzioni. Una chiusura questa volta motivata da lavori di efficientamento energetico che costringerà l'utenza autostradale a entrare e uscire dai caselli di Fano o da quello di Cattolica. E proprio poco fa, dalle 19 di questa sera, è invece iniziata la due giorni di sciopero dei benzinai annunciata da Figi Sconf Commercio, Faibe Confesercenti e Fegica che interesserà anche la rete autostradale e il servizio di self-service. Lo sciopero durerà fino alle 19 di giovedì 26 gennaio. Nel territorio pesarese non è annunciata un'adesione totale con esercenti che sciopereranno a macchia di leopardo. Ricordiamo che la mobilitazione nasce come protesta per le accuse di speculazione lanciate anche da esponenti del governo dopo la mancata proroga del taglio delle accise e il conseguente aumento dei prezzi. Ogni giorno 24 del mese di questo 2023 avvicina a Pesaro Capitale della Cultura 2024. Tappe di avvicinamento che sono cominciati oggi allo sperimentale con l'incontro fra il comune e gli stakeholder che abbiamo analizzato in questa intervista al vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini. Ogni 24 del mese sarà un appuntamento fisso da qui a febbraio, marzo, insomma andando avanti per tutto il 2023. Abbiamo iniziato oggi coinvolgendo tutti i dipendenti comunali perché saranno comunque una base importante del lavoro e della responsabilità di quello che trasversalmente agli uffici dovremmo andare a realizzare. Abbiamo perseguito poi incontrando le realtà del mondo del volontariato e ora l'incontro è con i portatori di interesse, con i soggetti della cultura, anche artisti singoli, chiaramente in un gruppo, in un indirizzario che andrà a crescere un po' a valanga perché naturalmente siamo rivolti agli indirizzi ordinari ma le porte sono aperte per partecipare a chiunque voglia e per portare il proprio contributo. Contributo che sarà essenzialmente nella prima fase nel fare parte delle 45 linee di progetto e di intervento che sono presenti nei dossier per cui siamo stati premiati dalla Commissione quindi non è il momento qui proporre le proprie iniziative per quanto poi un dialogo su questo anche con l'amministrazione c'è in continuazione ma per entrare a far parte delle 45 linee di progetto alcune di quelle che abbiamo raccontato anche durante l'audizione. È mancato oggi l'appuntamento con i sindaci che abbiamo riviato per il tema del maltempo ma lo recupereremo il 7 di febbraio quindi tra 15 giorni perché ovviamente i comuni saranno protagonisti assoluti e perché con loro appunto a partire anche qui dalle 45 linee di intervento di cui più della metà si svolgeranno nel territorio provinciale arriveremo a definire un po' un programma in crescita e in divenire l'appuntamento diciamo di anticipazione degli elementi principali del programma sarà poi nel mese di giugno da oggi parte un lavoro con le associazioni presenti con chi poi si raccorderà per le linee di intervento e poi ovviamente c'è anche un ascolto rispetto alle progettualità o anche a progetti da rilanciare che ci verranno sottoposti. È partito oggi con un lavoro importante sul volontariato quindi abbiamo coinvolto diverse realtà perché pensiamo che il mondo del volontariato e il programma dei volontari che andremo a sviluppare sarà non una parte ma sarà uno dei progetti principali della capitale italiana ne sarà probabilmente anche uno degli elementi di successo o di minor successo e soprattutto su base culturale e su base provinciale anche sarà uno dei patrimoni che appunto se tutto verrà svolto per il meglio rimarranno alla comunità della nostra provincia anche a supporto delle politiche pubbliche e culturali di tutti i singoli comuni. E tra le associazioni sicuramente interessate a Pesaro Capitale della Cultura c'è anche la confesercenti Pesaro Urbino che oggi ha ufficializzato Davide Ipaso come nuovo responsabile sindacale a margine di una intitolazione di sala riunioni molto particolare. Vediamo il servizio. Onorare la memoria del passato recente e gettare lo sguardo verso un futuro di rinnovamento. Confesercenti Pesaro Urbino ha colto questa mattina l'ex segretario cofcommercio Davide Ipaso in qualità di nuovo responsabile sindacale confesercenti. Una presentazione anticipata da un toccante momento dedicato alla memoria di Francesca Ruberti recentemente scomparsa dopo che dal 2005 Francesca lavorò in confesercenti come responsabile formazione CESCOT. Al ricordo della sua dedizione e professionalità è stata intitolata la nuova sala riunioni della sede che sarà adibita anche ad aula didattica dei corsi CESCOT. Un'aula dedicata fra l'applauso dei vertici confesercenti del presidente CESCOT Roberto Borgiani e della commozione dei familiari di Francesca con la mamma venuta appositamente da Roma. Francesca era una persona speciale, era una persona, si è visto nella partecipazione alla cerimonia e siamo veramente contenti di onorarla, di onorare la sua memoria anche perché Francesca è sempre con noi, sempre stata con noi. Continua a dispensarci dei gran consigli perché veramente lo faceva. Sono molto contento di questo, sono molto contento di aver pensato insieme ai miei colleghi di intitolare quest'aula a lei. Dal ricordo di Francesca si è passati all'abbraccio a Davide Ipaso, nuovo responsabile sindacale inserito in un più ampio processo di rinnovamento di confesercenti. Spero di portare tutta la professionalità e la conoscenza del territorio, e la conoscenza del mondo e dell'associazione nel miglior modo possibile. Mi sono entrato a piccoli passi dentro sicuramente una nuova famiglia che mi ha accettato in maniera bellissima, mi ha fatto stare bene. Volevo ringraziare la Confcommercio e anche il direttore Varotti per ciò che mi ha insegnato negli anni perché 29 anni di fianco a una persona che è molto brava nel territorio, mi ha insegnato tanto. Ero arrivato a un punto della mia vita in cui avevo perso gli stimoli, non era depressione ma ho avuto momenti dei miei familiari molto pesanti che mi hanno sfiancato. Avevo bisogno di ricaricarmi e adesso sono rientrato perché ho ricevuto tantissime attestate di stima da parte di operatori che mi chiedevano che cosa avevo intenzione di fare, se avevo voglia di rientrare un attimo in gioco. E questo mi ha dato carica. La carica ce l'ho, sono pronto di nuovo a voltare un'altra pagina della mia vita rimanendo sempre in quel sistema che io adoro, quello del mondo dell'associazione e quello del mondo imprenditoriale. Ci porta innanzitutto l'esperienza, l'esperienza che ha maturato sul campo, che con Fesercenti, ma io per primo vi ho già spiegato il rapporto di amicizia che ci lega, ho potuto constatare in tanti anni di attività, in tanti anni di passeggiate insieme per il centro storico e non solo, ho visto la professionalità di Davide, ho visto come lavora e sinceramente sono veramente molto, molto, molto fiero di averlo con noi anche perché, anche se viene da un altro mondo, da un'altra famiglia, rispecchia tanto i valori di Fesercenti, quindi siamo assolutamente molto contenti e Davide ci darà quel tassello in più, ci darà quella mano in più per essere ancora più vicini agli operatori ed essere anche qualche volta critici, qualche volta in senso positivo, qualche volta in senso negativo, con il mondo istituzionale. Nei giorni scorsi un ventenne perdendo il lavoro aveva deciso di farla finita tentando di gettarsi sotto un treno. Un tentativo per fortuna scampato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri ed ora a qualche giorno di distanza un imprenditore pesarese sensibilizzato da quanto accaduto ha deciso di offrire aiuto a questo giovane. Quante volte succede che per rialzarsi bisogna cadere? Vero, ma quando per quella caduta si intende tentato suicidio e quando a cercarlo è un ragazzo di 20 anni, allora per farlo risollevare bisognerebbe tendergli una mano. Aiuto che è pronto a dare Giovanni Arduini, titolare dell'azienda L'Arte del Riposo in Via Pantanelli, che di fronte alla notizia di qualche giorno fa di un ragazzo del nord trasferitosi a Pesaro da poco, senza più un lavoro, abbia cercato di suicidarsi sotto un treno, ha pensato di offrirgli un impiego all'interno della sua ditta. Mi ha toccato la storia di questo ragazzo che avendo perso un lavoro è talmente disperato, tra virgolette, da tentare il suicidio. Siccome io sono in una condizione che sto cercando del personale, sto cercando di un ragazzo giovane, questo mi è stato detto che era un ragazzo giovane, ho detto perché non dargli la possibilità di lavorare. Almeno un contatto, un colloquio, poi vediamo se magari c'è la possibilità di fare. Intanto uno spiraglio, giusto per dargli una speranza per il futuro. Il ragazzo, di cui non si conoscono le generalità, aveva deciso di farla finita scavalcando la recinzione della ferrovia all'altezza di Fosso Seiore, ma poco prima di tentare l'insano gesto si era confidato con un amico. Quest'ultimo non ha esitato ad allarmare le forze dell'ordine che una volta entrati in contatto telefonico col ventenne, lo hanno trattenuto facendosi indicare il punto esatto in cui si trovava. Raggiunto sul posto, dopo minuti e minuti di dialogo, sono riuscito a convincerlo facendolo tornare sui suoi passi. La mancanza di legame con la comunità di Pesaro, la perdita del lavoro e non sapendo più cosa fare, lo avevano spinto a prendere quell'infausta scelta. Ora però per il giovane potrebbe iniziare una seconda esistenza, magari a fianco di chi vuole dargli un'occasione per riprendersi in mano la propria vita. Ma noi guarda, qui siamo un'azienda a condizione familiare, per cui qua siamo a lavorare io e mia sorella, siamo, poi ho altre due persone, però siamo tutti molto piccoli, come dicevo, un'azienda artigianale, per cui siamo in famiglia, tra virgolette. Adesso noi vorremmo dargli un lavoro, poi se è una persona, io spero che sia come merita affetto, noi non siamo persone fredde, non siamo un'azienda con mille dipendenti che c'è un numero, se è una persona, questo è il nostro concetto. Non so dove questo ragazzo prima abbia lavorato, però noi siamo una piccola realtà a condizione familiare, per cui siamo in famiglia. Ecco, allora le masioni sono in produzione, per cui dovrà imparare logicamente tutto quello che consiste nella produzione di un materasso, per cui anche il taglio dei tessuti, il cucito, il taglio della gomma, tutto quello anche poi per le consegne, tutto quello che consiste nella nostra produzione. Noi siamo una piccola azienda artigianale, per cui diciamo imparerà col tempo a 360 gradi. Io sono Arduini Giovanni, titolare dell'azienda all'arte del riposo, produciamo materassi, mi può contattare al 338-600-9167, così è giusto per un colloquio, poi magari se il lavoro gli piace o non gli piace, intanto gli diamo una possibilità. Noi cerchiamo, lui cerca, vediamo di sposarci, insomma. I carabinieri di Pergola hanno dato esecuzione di un provvedimento di carcerazione di una donna straniera appena rientrata nel territorio. I militari, avendo appreso del suo imminente rientro, hanno effettuato diversi appostamenti nei pressi della sua abitazione fino a quando non l'hanno individuata e catturata. La donna che deve scontare otto mesi di reclusione per evasione continuata è stata tradotta nel carcere di Villa Fastigi. Carabinieri che sono intervenuti anche in via Rita Levi-Montalcini di Fanno, dove era stata segnalata un'auto uscita dalla sede stradale nella giornata di ieri. Auto rinvenute in un terreno agricolo e alla guida del mezzo una ragazza che aveva un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite massimo consentito al punto di aver creduto di circolare a Senigallia. E' stato immediato il ritiro della patente. Sono in arrivo 10 milioni di euro per gli impianti sportivi nelle scuole provinciali. La provincia fa il pieno sulle risorse assegnate dal Ministero dell'Istruzione attraverso i fondi europei Next Generation. Verranno finanziate le ultime tre candidature relative alla realizzazione della nuova palestra per il liceo Laurana Baldi nel campus di Urbino per 3 milioni e 900 mila euro, la costruzione della nuova palestra per il liceo Raffaello Sempe di Urbino per 3 milioni e mezzo e la riqualificazione dell'area sportiva all'aperto del campus di Fano di 2 milioni e 400 mila euro. Ripartono gli open day organizzati dall'associazione Out per promuovere il calcio sociale. Il 29 gennaio e il 12 e 26 febbraio alle ore 15 al campo sportivo di Vismara si potrà partecipare gratuitamente alle giornate di prova del calcio sociale, ovvero una nuova disciplina sportiva educativa ispirata al gioco del calcio ma con regole particolari che favoriscono l'inclusione, lo spirito di squadra e la partecipazione di chiunque abbia più di 10 anni. Obiettivo degli open day sarà quello di far conoscere questo tipo di esperienza e raccogliere più iscrizioni possibili per poter realizzare in primavera un campionato vero e proprio. E il 27 gennaio, in occasione della giornata della memoria, il Comune di Vallefoglia celebrerà la ricorrenza proiettando nell'aula magna della scuola primaria Carlo Alberto dalla Chiesa di Bottega il documentario di Pietro Suber intitolato 1938 quando scoprimmo di non essere più italiani. Suber sarà in collegamento video, mentre a dialogare con gli studenti ci sarà la giornalista Claudia Marchionni, capo redottrice del programma Quarta Repubblica in onda su Rete4. C'è la data dell'insediamento ad Urbino dell'arcivescovo metropolita Sandro Salvucci. Sarà domenica 5 marzo, un momento in cui verrà dunque formalizzato l'accorpamento discusso delle diocesi di Urbino, Urbani e Sant'Aggelo in Vado con quella di Pesaro. Data emersa oggi durante l'incontro del Vescovo con la stampa, incontro che approfondiremo ulteriormente nelle telegiornale di domani. 270 mila visitatori, un milione di visualizzazioni social e 50 servizi sulle tv nazionali. Sono questi alcuni dei numeri del successo dell'ultima edizione del Natale che non ti aspetti, che unisce gli eventi di 22 Proloco e pensa all'unione con i mercatini natalizi di Bolzano. Sempre più apprezzato, sempre più nazionale. Di anno in anno il Natale che non ti aspetti si conferma un volano capace di attrarre tantissime persone e di ravvivare l'economia dei nostri territori in un periodo ben lontano dalla bella stagione. A dirlo, come sempre, sono i numeri. Un milione di visualizzazioni sulla nostra pagina Facebook, 25 mila visite sul nostro sito, oltre 400 pullman, 2 mila volontari impiegati, 120 e abbiamo avuto 50 servizi televisivi a livello nazionale. Ma i numeri più importanti sono questi, 270 mila visitatori che vanno dal 26 di novembre al 6 di gennaio. Questo è un progetto che ha destagionalizzato un periodo di bassa stagione creando un PIL importante del nostro territorio. E questo lo dobbiamo quest'anno grazie anche al Volano, una madrina d'eccezione che il Ministro del Turismo, l'On. Santanchè, che ringrazio. Abbiamo avuto la possibilità, grazie alla Regione Marche, al Presidente Francesco Acquaroli, a tutta la Giunta di avere la possibilità sempre di più di implementare, avere in appoggio la Regione Marche che ci ha dato una grande spinta per promuovere questo bellissimo evento che richiama turisti da tutta Italia. E voi pensate che quest'anno abbiamo avuto anche turisti americani, abbiamo avuto un pullman di turisti americani che sono venuti a Candela Candelare. È una delle forme forse più inedite e più avanzate di attività culturali, folcloristiche e tradizionali che si stanno svolgendo sul nostro territorio. E quindi è chiaro che noi intendiamo sostenerla, l'abbiamo sostenuta anche quest'anno con il nostro contributo, con il nostro patrocinio della Regione e credo che anche i risultati ci diano ragione. 22 i borghi coinvolti. Per altrettante proloco che si sono messi in rete ottenendo risultati ben oltre le aspettative. Sono tre però gli eventi locali di rilievo nazionale che fanno da traino anche per tutti gli altri. Parliamo di Candela Candelara, parliamo di Natale a Monbaroccio, della festa nazionale della Befana di Urbania. Questi sono i primi, tre principali eventi che aiutano tutto l'intero comparto delle proloque di tutto il nostro territorio. E dico sempre, il nostro motto è l'unione fa la forza, noi insieme possiamo crescere. Vorrei anche in particolar modo ringraziare l'onorevole Antonio Baldelli che ci ha aperto la strada presso il Ministero del Turismo avendo avuto quest'anno in concessione il patrocinio e da qui abbiamo, credo, gettato le basi. E dico sempre grazie di cuore per averci creduto, per averci messo il massimo impegno perché non era scontato ed è la prima volta. È stato quasi naturale dare una rilevanza nazionale a questa manifestazione, questa splendida intuzione del Presidente Bartocetti che ha voluto fare delle piccole realtà, una rete e quindi dare forza a queste piccole realtà. E poi il grande progetto del Christmas Trail che dovrebbe sicuramente dare per la prossima edizione ancora un'ulteriore spinta. Sì perché il prossimo step sarà quello di collegare letteralmente il Natale che non ti aspetti con i famosi mercatini natalizi di Bolzano, con un vero e proprio treno. Ci auguriamo e ci aspettiamo sia da parte della Regione Marche che da parte del Ministro un forte interessamento fin da subito per poter mettere insieme il treno che parte da Bolzano, che attraversa Mezzitalia e che si ferma da noi e che possa portare i turisti nel nostro territorio anche per dare una svolta ecologica al nostro territorio e a tutto il nostro comparto turistico. E dare anche la possibilità a tutti di poter venire a visitare i nostri borghi e da qui andare anche a visitare Bolzano. Perché dobbiamo pensare sempre di camminare insieme. È un grande progetto a livello nazionale e oggi lo chiederò a gran forza all'Onorevole Baldelli di farsi portavoce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso il Ministero perché questo progetto nazionale venga riconosciuto anche con uno sforzo economico da parte dello Stato perché questi soldi che arriveranno, questi contributi che possono arrivare aiuteranno il comparto economico. Voi pensate solo che i camperisti, oltre mille camperisti, oltre 400 pullman che sono andati nei nostri borghi hanno mangiato, degustato, acquistato prodotti e quindi i ristoranti, gli alberghi, i B&B, i produttori locali, l'artigianato artistico hanno lavorato tutti a pieno ritmo. Dietro i numeri, le persone. Al cuore di tanto successo vi sono senz'altro i 2000 volontari che senza chiedere nulla in cambio donano tempo e sudore per la realizzazione di questo grande progetto. Sicuramente la forza della Proloquo è la forza delle migliaia di volontari che offrono la loro attività, il loro tempo per far crescere il nostro territorio, una crescita turistica, economica e quindi anche un modello da replicare su scala più ampia. E concludiamo il nostro telegiornale con alcune notizie di sport. A cominciare dalla VL che ha deciso di prolungare il contratto con l'islandese Jon Axel Gudmussen fino al termine della stagione. Mentre nel calcio si separano le strade tra la Vispesero e l'attaccante Kevin Cannavò, è stata infatti ufficializzata la cessione in prestito al Padova fino a giugno 2023. Nel calcio a 5 invece l'Ital Service torna in campo domani al Palafiera alle 19 nel turno di Coppa Italia contro la L84 Torino a pochi giorni dal gratificante 6-0 in campionato con il Melilli. Sarà gara secca, in caso di parità si procederà con due tempi supplementari e non dovessero bastare con i calci di rigore. E con lo sport concludiamo la nostra edizione della telegiornale Rossini News. Ma prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata che alle 21.20 è dedicata ad una nuova puntata della TV dei Viaggi che in questo caso vi porterà alla scoperta della città francese di Marsiglia. E poi l'informazione su Rossini TV che torna puntuale domattina alle 7.20, come sempre in diretta dal lunedì al sabato. Buongiorno Rossini che per l'occasione sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi. Ed è tutto invece per questo nostro spazio informativo di Rossini News. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi.